Mi metto in prima pagina perché t'ho messo in panchina, sono uno stronzo, sì, è vero, però rimedio con la prima pagina di stadio. E questa è la prima pagina di stadio. Solo applausi. Solo applausi. Possiamo dire che questo programma influenza la stampa nazionale. Abbiamo una domanda a L. Edwell, con la risposta multiva, l'abbiamo voluto aiutare. Come si cura la malattia di Osgott Schlatta, detta ginocchio a punta? Allora, amici, Osgott, certo, abbiamo varie multiple choice, ghiaccio, piccola crescita, ciclo della De Morandi, piccola tecar terapia. C'è una clip, mi dicono, c'è una clip perché hai studiato, vero? Non c'è più papà che ti allena. Io sono praticamente tornata a casa ora e ho fatto dei giorni super intensi, infatti non ho fatto neanche in tempo a raccontarvi cosa stavo facendo. Ho iniziato il master, finalmente, sono stati due giorni intensi, dove, insomma, sono molto contenta perché ho già imparato un sacco di cose. Mi mancava comunque, insomma, prendere appunti, studiare, avere i compiti da fare a casa e quindi sono molto, molto contenta. Ma che c'è là sotto? Niente. Perché? Hai una cosa strana che te pende. Dai, a parte sempre tipo uno del futbolo americano. È una novità. Hai tipo sei strati. Posso farvi vedere? Aspetta, posso farvi vedere? Perché, allora, volevo un attimo, ecco. Ma non esagerare. È una presentazione. È una presentazione. È una presentazione della maglia. La maglia dell'Undici Rossi. Con lo sponsor La Cesoglia. Bella questa. La Cesoglia, molto bella. Bella questa. Ti piace? Sei arrivato con troppa aboria, la bacherai. E infatti, divenissera prima dei musici. Una cosa alla volta, una cosa alla volta. È un risultato di una pulizione che era la foto di Zazzarone. L'hai fatto il video? Fatto. Vogliamo vederlo? Vediamo. Vediamo. C'ho qualcosa da appendere. Zazzaroni appeso. E punizione fatta.